Salve a tutti, buonasera, mi presento, sono Melinda Giorgiani e oggi vi racconterò la mia esperienza, la mia storia, la mia storia di pre-morte. Sono stata in coma a causa di un incidente stradale a seguito del quale appunto insomma sono stata 17 giorni in coma. Chiaramente a mia insaputa, quando mi sono risvegliata, quello che mi è stato raccontato e appunto abbia detto, perché non me lo ricordo il momento in cui mi sono svegliata, anche se mi ricordo benissimo, perfettamente tutto quello che ho vissuto appunto mentre ero in coma. E quello che ho detto appunto è che ero da Dio, c'erano tutti i miei fratelli e io passeggiavo con Piero. Piero era il ragazzo che era con me nell'incidente e che purtroppo non ce l'ha fatta. Io in seguito non credevo fossi stata in coma perché quello che io ricordavo era una vita reale, un senso di realtà molto vivido e molto più di quello che io sentivo e sento ancora un po' adesso nella vita reale che poi ho accettato sia la vita reale. Perché prima ero convinta, ero sicura, certa che la vita vera fosse lì. Tanto è vero infatti che io dicevo a mia madre, a mio padre, che non ero felice di essermi risvegliata quando poi mi hanno detto che ero stata in coma. E loro mi dicevano, ma Gioia ma non sei felice che sei, che ti sei svegliata, che hai una vita davanti. E io dicevo, no mamma, papà voi non capite, voi non capite che per me la vita reale era quella che voi dite che io ho vissuto mentre ero in coma, che avevo visto soltanto in quel periodo mentre ero in coma. in particolare mi ricordo benissimo, infatti chiedevo a mamma, mamma ma sono stata in un viaggio perché mi ricordo perfettamente di essere con Piero e che passeggiavo con lui in un grande prato verde con fiori di tutti i colori, di tutti i colori insieme. Quindi i fiori, tutti gli alberi e tutte le cose bellissime che c'erano lì non erano di colori come conosciamo qui, ma era tutto di tutti i colori. In particolare c'era alla mia destra un lago con una cascata molto molto lenta e bellissima e c'erano tante tante persone. Alla mia sinistra, alla mia sinistra, giusto? Ho un po' di difficoltà destra e sinistra. Alla mia sinistra appunto c'era una una staccionata come una ringhiera di legno al di là della quale io potevo scorgere il mondo. C'è proprio il mondo, le case, il mare sotto. Questa cosa quando io non la ricordavo, cioè proprio per me era l'unica cosa vera che io avevo vissuto in quella realtà in cui mi ero svegliata, però non riuscivo a collocarla, a contestualizzarla in qualcosa di sensato, di razionale. E quindi ho pensato che forse ero in una sorta di... che c'era una recita dietro di me, perché appunto dietro di me, alle mie spalle, mentre io e Piero stavamo camminando lungo questo sentiero fatto di alberi bellissimo, dietro di noi c'era una una scena fantastica. C'era un grande trono, una grande poltrona, al centro con qualcuno che io che io sapevo fosse Dio. Alla sua destra c'era una sedia di legno grezza e anche a sinistra. Su quella di destra c'era seduto Gesù, vestito con una fascia bianca solo sui fianchi, e invece quella di sinistra era vuota. Inoltre accanto a Gesù, appunto a destra, però all'impiedi c'era la Madonna e Padre Pio, dopo. quando mia madre mi chiese, appunto quando io ho raccontato queste cose, mi chiese ma com'era la Madonna? Io l'ho descritta in una veste che non era né grigia e né azzurra, un misto. Ecco, anche questa descrizione a me appare un po' strana, che fosse sollevata su una nuvola, quindi sospesa da terra, che poi la terra su cui io passeggiavo e su cui mi trovavo era fatta di nuvole. Comunque la Madonna era sospesa anche circa un metro sopra appunto la superficie su cui stavamo noi, e Padre Pio ha l'impiedi. E quando io ho raccontato queste cose per la prima volta, ho descritto anche di una signora che mi chiamava da dietro questa scena appunto di dove c'era seduto Dio, dove c'era la Madonna, Gesù. quindi io ricordavo e nominavo spesso questa signora, questa signora che mi chiamava da dietro e mi diceva Melinda, torna, la mamma, tua mamma sta male. E io questa cosa non riuscivo a sopportarla, non riuscivo a tollerare che io dessi del dolore a mia madre. E mi dava fastidio questa signora, quindi in questo ambiente in cui io stavo benissimo, ero felicissima, passeggiavo con Piero e da qui non volevo tornare né ora né mai, c'era questa signora però che mi disturbava con il pensiero di mia madre. Io non so se ho potuto decidere, credo di no. Poi, appunto, poiché Piero non ce l'ha fatta, come anche tante altre persone non ce l'hanno fatta, io non credo che si possa decidere. Non lo so, credo che a volte non ce ne sia la possibilità, ma se io avessi potuto decidere avrei deciso di rimanere lì. Ed è per questo che io ho sentito dopo l'urgenza di raccontare la mia storia e di dirlo a tutti, specialmente ai genitori, specialmente ai genitori di figli, di ragazzi che non ci sono più. Perché io, quando sono tornata, non riuscivo ad accettare di essere appunto tornata. e quando mi dicevano, quando sentivo di qualche ragazzo, di qualche persona che purtroppo per noi nella vita di adesso, di ora, di questa vita è andato via purtroppo. Io allora ero... ero... non felice, ma quasi... dicevo... che bello! Come se li... non invidiassi, però dicevo... loro ce l'hanno fatta. Io mi sentivo come se non ero stata accettata, voluta da Dio. Quale esempio è stata accettata? Appunto, oggi ho l'onore, la prima volta di fare questa testimonianza con di fronte mia madre, la testimone diretta, la più vicina appunto... Ah, è arrivato anche mio padre! I più vicini, i più diretti testimoni di questa mia esperienza, che loro a volte l'hanno chiamata miracolo. Anche se io all'inizio non sopportavo questa parola, perché se... io dicevo... il miracolo, se c'è stato, l'hanno fatto a voi, non a me, perché io sarei voluta rimanere lì. E questo tutti devono saperlo, tutti appunto i genitori di figli che purtroppo non ci sono più. Oggi, anch'io, sono legata alla vita e mi dispiacerebbe adesso lasciare questo mondo. Sicuramente per i progetti che ho messo in atto, che ho portato a termine, ma anche per tante altre cose che io vorrei fare in questa vita. Visto che ci sono! Quello che vorrei dire è anche che, appunto, quella signora che io sentivo da dietro, non sapevo chi fosse. E quando la raccontavo a loro, loro pensavano che fosse la Madonna o che fosse qualche, appunto, entità divina o trascendentale, come quelle che avevo visto e di cui avevo raccontato io. Invece, ho scoperto, un po' più tardi, circa quattro anni, circa tre anni, quattro anni dopo, appunto, il mio incidente, il mio risveglio e la mia ripresa, veniva a mancare un'amica, una collega di mia madre, collega di lavoro. A me è dispiaciuto molto quando è morta questa signora, che purtroppo non ho potuto, per motivi di studio e motivi di distanza, non avevo potuto, appunto, incontrare più da vicino. Prima che lei morisse, chissà, magari mi avrebbe detto qualcosa, non so. Quando è, appunto, morta, mio padre mi ha detto, Gioia, adesso te lo posso dire. Quando tu eri in coma, Anna, questa signora, diceva che poteva parlare con te. E noi un po' le dicevamo, Anna, smettila di fare queste cose, perché lei stava dietro le scale, comunque dietro il vetro, perché, appunto, in sala di rianimazione le persone potevano intravedermi soltanto attraverso un vetro. E lei diceva che parlava con te e mi ha raccontato, e ci ha raccontato, appunto, che ti invitava a tornare e ti diceva che tua madre stava male. E tu le rispondevi, vattene, adesso non voglio tornare, per favore, vattene, non mi infastidire, sì, sì, più tardi ritorno, ma adesso vattene. Quando mi ha raccontato questa cosa, io sono rimasta, ho detto, allora era lei, quella signora che mi chiamava, e che io mi ricordo bene, non di vedere, ma di sentire, di sentire la sua presenza e la sua voce di ritornare. Ed era lei, quindi, che mi infastidiva, mi disturbava nel mio, insomma, stare lì, in quella pace. Purtroppo non me l'hanno detto prima, perché sennò sarei andata da Anna a dirle come aveva fatto, come era potuto succedere ciò che io, mentre ero in coma, sentivo lei che mi parlava da un'altra parte, in uno stato di meditazione, di... non so bene cosa. Perché comunque mi ricordo perfettamente anche che potevo sentire quello che mi dicevano al citofono, quindi io nella sala di animazione avevo... avevo appunto delle... non so, delle casse vicino, non so, e quello che mi dicevano io riuscivo ad ascoltarlo e anche dentro di me a rispondere. Per esempio, i miei amici, i miei cugini mi dicevano... ti voglio bene, ti voglio bene, mi manchi... e io non capivo perché tutte queste manifestazioni d'affetto, però io, molto grata rispetto a queste parole, dicevo... anche io ti voglio bene, che bello, sì, anche io ti voglio molto bene. Però loro non mi... cioè, io avevo la percezione di dire queste cose, ma come se loro non mi rispondevano più. E non capivo... non capivo cosa stesse accadendo. Poi, anche mio fratello, quando io ero in coma, lui è un cantante, gli piace molto cantare ed è anche un cantautore. Ha scritto una canzone per me, appunto, con il nome Melinda, e quando me l'ha fatta ascoltare con le cuffie, dicono che mi sia scesa una lacrima e dopo qualche giorno mi sono svegliata. In seguito ho saputo, ho scoperto, che mio fratello ha scritto questa canzone andando a chiedere il miracolo alla Madonna del Tinderi. E lui avrebbe patteggiato, avrebbe chiesto alla Madonna, appunto, di far svegliare me in cambio di qualche suo sacrificio. Diceva, diceva, guarda, non farmi diventare famoso, fai che va male qualcosa nella mia vita, purché tu salvi mia sorella. E quindi lui, insomma, si sente anche legato a questa, e chiaramente anche io. Inoltre, posso raccontare che i miei genitori, con tutti i miei amici, tutte le persone, i loro amici che conoscevano, appunto, la mia famiglia, hanno pregato molto. Hanno pregato incessantemente, addirittura mentre dicevano del... Mentre recitavano il rosario, in delle catene che non si interrompevano mai, raccontano, appunto, che spesso si rompevano queste coroncine. E un parroco diceva loro, appunto, che dovevano continuare a pregare incessantemente di più, perché questa preghiera poteva dar fastidio a Satana. In più, visto che c'è una spettatrice qua di fronte, posso chiedere... Posso chiedere... Mamma, mi sto dimenticando qualcosa? Vuoi che aggiunga qualcosa? Sì, devi parlare delle... Intanto leggo anche i vostri commenti. Ok. Delle parole che hai detto quando ti sei svegliata. Sì. Che naturalmente... Tu non ti ricordi, ma siamo stati naglie stanno... Naturalmente è precisa mia madre che quando io mi sono svegliata... Il giorno e poi ti sei svegliata. Il giorno... Ah, è vero, è vero. Ok. Il giorno della Madonna di Lourdes, l'11 febbraio, avevano deciso i medici, appunto, siccome non c'era molto da fare. Anzi, i medici stessi dicevano ai miei genitori pregate perché muoia, non perché è viva. Perché rimarrebbe con molti deficit e molti problemi. E quindi, appunto, il giorno della Madonna di Lourdes mi hanno trasferito in un altro ospedale. E io durante il tragitto, appunto, ad arrivare in questo reparto, avrei dato il mio primo segno di risveglio. Avrei detto, devo fare la pipì. Una frase che mi piace molto. Quindi, per loro è stato un primo segno di miracolo e anche di risveglio, appunto, per i medici. Di fatto, poi, mi sono svegliata realmente il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, dopo, appunto, tre giorni. Quello che ho detto, però, purtroppo, io non me lo posso ricordare, non me lo ricordo completamente. Io mi ricordo circa dieci giorni dopo il mio risveglio. E mia madre, però, mio padre, mi raccontano anche tutti i miei amici che erano lì presenti e che sono entrati subito dopo. E mi hanno raccontato, appunto, quello che io ho detto. E, appunto, ho detto, ero da Dio, c'erano tutti i miei fratelli e io passeggiavo con Piero. E poi ho detto subito, mamma, prendimi la Bibbia e il Vangelo, perché devo stringerli forte al mio petto, perché tutti dovete assaggiare le parole che ci sono scritte. Mia madre era un po' sbalordita, frastornata, perché intanto appena sveglia dal coma io riuscivo a parlare. Ma così bene, e soprattutto di cose così strane per me, lontane da me, perché comunque avevo 17 anni. Sì, mi ero fatta la cresima, ma magari quando ero più piccola, purtroppo neanche me lo ricordo. E quindi comunque ero molto distante, non è che andavo in chiesa. Mia madre era molto frastornata da queste mie parole. Comunque hanno trovato subito una Bibbia e me l'hanno data. E io l'ho aperta, e l'ho aperta proprio, così a caso, se si può dire a caso, se esiste il caso. E ho letto il passo di Giovanni sulla morte e resurrezione di Cristo. E l'ho letto perfettamente. Quindi anche questo evento straordinario. E inoltre quando entravano i miei amici, le persone appunto che mi erano state tanto vicine, che erano state vicino alla mia famiglia, appena si avvicinavano io dicevo tutti vi amo tutti, vi tengo sempre nel mio cuore. E quando me lo ripetevano, dopo mesi che me lo raccontavano, io non ci potevo credere, perché a parte che ero molto... Ok, era un linguaggio che non mi apparteneva. E poi io dopo ero molto arrabbiata con tutti, con tutto il mondo, per il motivo che ho detto prima, appunto perché io non volevo, non volevo ritornare. E mi trovavo qui, in questo mondo, un po' malvolentieri. Scusa, mamma, sì, vai. Ettore, Giacardi, vi chiede, le figure che ti si sono mostrate davanti, vi hanno detto qualcosa? Mi hanno detto qualcosa? No, non mi hanno detto qualcosa. In particolare, a parte che erano dietro, quindi davanti a me c'era soltanto la natura, gli alberi, il sentiero di alberi e Piero accanto a me con cui io passeggiavo. Perché avevano tutti la stessa età? Ah, ho detto anche che avevano tutti la stessa età queste persone. Comunque le figure che io ho visto dietro erano un po' lontane. Comunque io, a ripensarci, ho provato come un senso di offesa. Perché loro, mentre noi camminavamo in avanti, loro non mi richiamavano indietro, non dicevano torna indietro, resta qui con noi. E quindi un po' questo... E però erano tutti felici, tutti felici che mi conoscevano tutti. E io non capivo... Ok, leggo. Piero, che non è in vita. Piero, quando mi hanno detto che fosse morto in questo incidente con me, non ci credevo, non volevo crederci. Perché per me era l'unica persona che io ricordavo viva, veramente viva, comunque nella vita reale. Dicevo io, adesso forse sono in coma, adesso forse sono in un sogno, ma io alla vita reale l'ho vissuta lì, con lui. Quindi non è possibile che sia morto. Mi è riapparso... A parte che è stato sempre, da sempre, nella mia vita, ogni secondo, come potete immaginare, visto che è l'unica persona che c'era con me in quella realtà. Comunque l'ho visto in un sogno, dopo qualche mese, che mi diceva... che suonava alla mia porta, e io andavo ad aprire, ed era lui, e quindi io dicevo, allora è vero che non sei morto! Lo abbracciavo, e lui mi ha detto... Ah, e io ho detto, lo sai, ti penso sempre, penso a te, penso all'incidente che ci è accaduto. E lui ridendo mi ha detto, ma quale incidente? Però, quale incidente come se voleva convincermi? Come se... come se diceva che non c'era stato nessun incidente, ma invece... come se... come posso dire? Come quando si dice, ma quale incidente? non c'è stato nessun incidente, quindi nel senso che c'è stato l'incidente, però non è stato niente di... di importante. E quindi... questo sogno mi ha riportato molto a quell'esperienza, appunto. E insomma, dicevo che non era... dicevo che non era... veramente... veramente morto. Ok. Grazie per la tua risposta, penso... che non ti abbiano chiamato, perché ancora hai da compiere... Ok. Hai detto una bella cosa, quando... quello è reale, questo sogno. Grazie di nuovo. Hai... mamma, togli il volume per favore. Hai il desiderio di tornare in quella realtà che hai visto? Allora, adesso sono passati 14 anni, appunto, da quando... da quando io ho avuto quell'incidente. Anche se non ho mai avuto più paura della della morte, oggi mi dispiacerebbe se dovessi sapere, appunto, di... che so, che so, insomma, male. Mentre, mentre prima, vicino all'incidente, era proprio l'unica cosa che aspettavo. Quella di ritornare... di ritornare lì. Togli il volume. Non c'è il volume. Adesso mi dispiacerebbe un po', perché mi sono più... Adesso, oggi sono più più legata a questa vita, appunto. Se ci sono altre domande io potrei... posso rispondere. ok. Ah, ok. Sì, vero, stavo dimenticando la cosa. Appunto, per questa urgenza che io ho avuto di raccontare a tutti la mia storia, specialmente ai genitori di ragazzi che non ci sono più, l'anno scorso ho scritto un libro ed è questo. Era l'alba. era l'alba che ho voluto dedicare che ho voluto dedicare a Tom che era il nomignolo con cui ci chiamavamo con Piero anche nella vita dico prima dell'incidente e ad Alba per questo l'ho chiamato anche era l'alba perché quattro anni quattro anni dopo la mia quattro anni dopo il mio incidente un incidente lo ebbe anche mia mia cugina mia cugina Alba soltanto che per lei non ci fu non ci fu purtroppo niente da fare quindi ho vissuto quell'esperienza dall'esterno come l'avevano vissuto appunto tutti i miei parenti e amici che dicevano di aver sofferto così tanto per me io dicevo ma che dite io ero felice eccetera eccetera ho vissuto il lutto di mia di mia cugina e purtroppo lei appunto non ce l'ha fatta donando i suoi i suoi organi e quindi ho voluto dedicare a lei il mio libro era l'alba ok ti è rimasto è stato difficile metabolizzare quell'esperienza cioè tornare alla vita qui è stata la cosa più più difficile è stata la cosa più difficile che mi sia mai capitata nella vita in particolare in particolare io non mi non mi ritrovavo non mi ritrovavo più nella vita io non credevo che questa fosse la vita ho pensato addirittura ho pensato addirittura per anni che fossi in un sogno che mi trovassi in un sogno e che per svegliarmi nella vita reale quella che io ricordavo appunto che ho vissuto durante il coma era che insomma dovevo morire cosa ti è cambiato nella vita oggi ho qualche dono che prima non avevo spero di no penso penso di no se non se non la mia gratitudine gratitudine alla a Dio in primis a tutte le persone che hanno che hanno pregato che hanno che hanno fatto anche un solo pensiero per per tenermi per tenermi qui in vita e che mi hanno fatto e che mi hanno fatto poi essere felice di essere rimasta in qualche modo perché all'inizio non lo ero assolutamente poi però la vita è anche è anche bella c'è qualcosa di bello e quindi in qualche in qualche modo l'ho vissuta con con credo un po' più di sensibilità rispetto alle persone che che soffrono infatti poi infatti poi non a caso sono diventata psicologa faccio molto molto volontariato con i ragazzi con i ragazzi disabili che saluto e con tante con tante altre persone che non hanno che non hanno molte molte possibilità e io faccio faccio volontariato inoltre lavoro lavoro con i pazienti con i pazienti oncologici e quindi e quindi sono tutti i giorni a contatto con con la morte con chi deve affrontare la morte con chi l'ha subita l'ha affrontata di persone di persone care appunto quando ancora oggi io parlo di morte non riesco a parlarne in in maniera in maniera triste non perché io desideri appunto questa desideri questa cosa però perché io non ho paura è perché ho vissuto vissuto un'esperienza per cui appunto non non ho non ho paura non assolutamente ci è rimasto ok ci sono diverse dimensioni nell'aldilà non lo so io ne ho visto una sola quella lì appunto che vi ho che vi ho raccontata ma nell'aldilà ci riconosciamo ok io nell'aldilà in realtà conoscevo tutti però non so qui chi fossero non so chi erano se non la madonna padre pio gesù quelli li ho riconosciuti però gli altri ci conoscevamo tutti avevamo più o meno tutti la stessa età anche se c'erano bambini e anche animali però io non so non so chi erano spesso mi hanno chiesto ma c'era nonno c'era lo zio che è morto non lo so non me lo ricordo personalmente tu che abiti indossavi come quelli che usi nella terra o sono diversi credo che fossero diversi sicuramente non erano jeans sicuro non erano jeans e neanche cose strette era qualcosa di molto di molto leggero non so di che colore forse di tutti i colori insieme non lo so sarà forse che odio fare shopping ma proprio i vestiti non me li ricordo che cosa si fa di là ok io passeggiavo passeggiavo salutavo tutti conoscevo tutti c'erano dei dei bambini delle famiglie nel lì vicino vicino al lago tutti ridevano tutti sorridevano sentivo parlare sentivo tanto parlare mi ricordo cosa cosa io dicevo con con Piero ridevo ridevo tantissimo però non ricordo cosa cosa cioè non so cosa dicessero gli altri probabilmente non li non li ascoltavo hai riconosciuto chi era hai riconosciuto che ah che lì era la nostra dimora da dove già siamo venuti io penso di sì che era che era quella proprio non non so descrivere la sensazione ma è proprio una un un vissuto interno che mi che mi ha fatto pensare molto questa questa cosa i colori sono diversi sì sono molto molto infatti quando io ho fatto la copertina del mio libro per questo ho disegnato ho fatto ho fatto realizzare un occhio di tutti i colori con tutti i colori perché quello che vedevo io era di tutti i colori eh con tantissimi colori hai visto il film No Solar che ne pensi l'ho visto l'ho vista ed è meraviglioso mi mi sono sentita di mi sono sentita come se quel film non che non l'ho non l'ho fatto io però che quel film parlava di una di qualcosa di una dimensione in cui io c'ero ci sono ci sono stata ciao Milena ciao non so se hai visto il film No Solar ok se ti ritrovavi la dimensione ok era un'altra la stessa domanda che messaggio hai per le persone che hanno perso un loro caro ok il messaggio non non vi dico tanto quello che ho oggi che sicuramente ha un po' di anche un po' di scientifico ma voglio dirvi che vi arrivi più più diretto il messaggio che davo che sentivo appena appena sveglia dal coma e appunto appena appena rientrata in questa vita io non ero non ero felice di essere di essere ritornata e per me la vera la vera vita la vera felicità è lì da qualche da qualche parte infatti infatti mia madre mia madre dice che io ero tanto arrabbiata per essere per essere tornata che davo la colpa che davo la colpa a lei diceva è stata colpa tua perché sono perché sono tornata perché io riconoscevo appunto che le parole che mi diceva quella signora mi pesavano cioè io sapevo cioè sapevo in qualche modo che tutti mi chiedevano di tornare però io non sarei tornata e soltanto mi soltanto il peso grande che mia madre soffrisse a causa mia mi avrebbe fatto tornare semmai l'ho potuto decidere io questo non lo so purtroppo un'altra cosa che volevo dire vi ricordate le parole che ho detto appena appena sveglia di com'era la madonna e tutte le cose che dicevo ai miei amici vi amo tutti vi tengo sempre nel mio cuore che io non ci credevo non ci credevo tanto che ho detto vi siete inventati tutto vi sicuro sicuramente vi siete inventati tutto perché non ho potuto dire mai queste cose visto che provavo molta rabbia per tutti quando nello stesso anno appunto il primo anno siamo andati a Međugorje perché appunto il gruppo di preghiera che pregava incessantemente per me era già stato a Međugorje addirittura un prete aveva detto loro voi pregherete molto pregherete molto in ospedale quei signori tutto il gruppo dicevano in ospedale ma perché dobbiamo andare in ospedale fatto sta che dopo qualche mese ho avuto l'incidente io e si sono ritrovati davvero lì a pregare quindi quando appunto erano lì a pregare dicevano quando Melinda si sveglierà andremo tutti a Međugorje e quindi giustamente come promesso i miei genitori mi hanno portato insieme a tutti loro quando io sono andata sono arrivata lì appunto ero molto scettica non credevo a tutte queste cose finché siamo stati ad una testimonianza di un veggente Ivan di uno dei veggenti che ha raccontato di quando vedono di quando hanno visto la prima volta la madonna e che è intanto l'ha descritta un metro sollevata dal terreno come l'avevo vista io e con un vestito sentite che non è né azzurro né grigio un misto mamma mia le parole identiche che avevo detto io e la cosa che ci ha detto la madonna le prime volte che ci ha visto era sempre vi amo tutti vi tengo sempre nel mio cuore io mi sono mi sono voltata verso mio padre e mio padre piangeva perché lui le ha sentite davvero queste parole da me io invece no però loro me lo dicevano sempre che io le avevo dette ma io non ci potevo credere quindi per me lì è stato un segno un segno che forse davvero ero stata al di là e che quello che avevo visto non era stato un sogno e non era non poteva essere una mia invenzione perché io non avevo idea di cosa fossero i giugori di cosa fossero queste apparizioni non avevo completamente la minima idea e continuo a leggere quella è la nostra realtà qui siamo in prova è vero Letizia Stefania non mi sembri sicurissima quando dici che la vita ha qualcosa di bello dai dopo un po' l'ho trovato qualcosa di bello che ne so andare al mare abbracciarsi amarsi stare in natura stare in natura il mio il mio posto sicuro nella mia pratica clinica io chiedo chiedo sempre a tutti i miei pazienti di trovare un posto sicuro e il mio posto sicuro è un posto magico che somiglia molto a quella a quella parte che io che io ho vissuto molto molto lontanamente però somiglia somiglia un po' a quella a quella parte ecco con molta immaginazione somiglia a quel posto appunto in cui io ero felicissima c'è una domanda ci sono persone che soffrono nell'aldilà io non me ne ricordo assolutamente e per questo volevo 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 rimanere sì ok va bene cosa pensi della morte lo credo appena detto sei la prova che la morte non esiste esiste solo la paura dell'ignoto sì è vero è vero Stefano la gratitudine Ettore la gratitudine è il primo passo verso il paradiso penso che questa esperienza ti abbia fatto capire la tua missione qui è quello che fai ora è una grande cosa sei un'anima speciale grazie grazie Ettore Rita gli animali come vivono non lo so non lo so questo non lo so mi ricordo che c'erano dei cani precis cioè proprio mi ricordo che c'erano dei cani altri uccelli farfalle ecco mi ricordo che c'erano tante tante farfalle un po' come come il libro un milione di farfalle no non ce ne erano così tante proprio tante tante non era così così tanto affollato ma c'era c'era quest'aria incredibilmente bella chi è Piero e l'ho detto poco fa dopo sei sette mesi della partenza di mio ok feci un sogno dove vedi una meravigliosa ballata con dei colori che definirli i nostri nomi giallo verde e riduttivo giusto giusto cosa puoi dirmi dei colori che hai visto l'ho appena l'ho detto poco fa appunto che sono molto 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 forti a proposito di molto forti avevo ho raccontato a mia madre appunto è quello che mi che mi ricordo anch'io è che c'è che c'era una luce fortissima ma che non dava fastidio agli occhi quindi in era l'alba ho raccontato tutti questi questi particolari perché appunto non sfuggisse niente al mio racconto e alle persone che volevano sapere perché ogni volta che io racconto della mia della mia esperienza posso raccontare soltanto una una piccola parte quindi in questo in questo libro ho raccontato proprio proprio tutto spero proprio che poi alla fine tutto 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 non si racconta mai però però sì tutte le le parti salienti e più e più importanti ok la puoi descrivere la madonna di Gesù sì la madonna era una una donna una donna normale e Gesù era pure un uomo bello però ecco non so non so non so come in che altro modo posso posso definirli se non in quella realtà di persone che io che io vedevo cioè proprio le vedevo proprio persone reali proprio reali si vede dai tuoi occhi che hai provato in maniera autentica quello che hai vissuto sei molto coraggiosa a mettere in pratica quello che sei ti faccio i miei complimenti più vivissimi grazie Andrea secondo me forse forse sbagli ma la mente può vedere ok questa è una un'opinione grazie Andrea ci sono persone che soffrono nell'aldilà l'aldilà l'avevo già letto prima non credo sei bellissima grazie Giuseppe io non credo nell'aldilà ah non credo che nell'aldilà qualcuno soffra qualcuno soffra ok è giusto Stefano anche io anche io lo penso e l'ho un po' provato ma ti risulta che nell'oltre ci arriviamo con le nostre credenze ok ok allora io credo anche in seguito a tutti gli studi in seguito a tutti gli studi che ho fatto dopo grazie alla facoltà che ho scelto ma anche per appunto il mio interesse personale ho studiato tutte queste queste esperienze come ce le hanno gli altri quando perché cosa ricordano anche perché io avevo avevo 17 anni non avevo cioè quando mi hanno detto sei stata in coma ho detto che è cioè cos'è che cosa vuol dire io sono stata in coma vuol dire che sono quasi che stavo morendo e non è possibile perché io non mi ricordo niente di tutto ciò quindi appunto mi sono mi sono interessata molto al fenomeno della coscienza di cosa accade durante il coma e quello che quello che accade appunto diciamo l'esperienza comune è questa della luce sicuramente della pace della felicità poi però in base alle proprie credenze quindi religiose in base al contesto in cui una persona è cresciuta all'educazione anche se io avevo perso un po' la memoria un po' tutta la memoria però ho parlato di queste cose magari una persona di un'altra religione un musulmano sicuramente avrà visto altre cose non avrà visto Gesù la Madonna quindi ecco queste cose sono culturalmente anche determinate però di fatto è l'aspetto comune che è interessante e saliente in tutte queste esperienze che comunque tutti senza conoscerci a distanza di migliaia di chilometri differenti culture differenti visioni della vita differenti età perché comunque non è poco considerevole il fatto che tutte queste esperienze hanno in comune delle cose che comunque raccontano sia bambini sia anziani di qui che abbiamo tutti la stessa età che c'è quella luce fortissima che si sta bene e che è questa sensazione appunto di non voler tornare e quindi non credo nell'aldilà o non voglio convincere nessuno però io sono sicura sono sicura di questo io proprio l'ho visto è forse la cosa più di cui sono più sicura anche in in questa vita in cui sono sono tornata dopo e penso che penso penso questa cosa che l'aldilà esista davvero anche perché mentre io ero in un quasi totale in una totale assenza di coscienza per via del coma il mio non era un coma indotto ma era un coma spontaneo e per cui non si poteva fare nulla per risvegliarmi cioè tutti i tentativi di risveglio fallivano quindi come facevo io mentre ero in coma a sentire a sentire e ripeto non solo quello che mi che mi dicevano non solo quello che mi dicevano al citofono avevo le cuffie quindi magari qualche pezzettino di coscienza qualche stralcio di coscienza era ancora era ancora funzionante quindi magari potevo riuscivo a processare queste informazioni ma come facevo a sentire a vedere addirittura cioè quella porta attraverso cui mi parlava quella signora che mi diceva quelle cose che non era dentro la sala di animazione neanche al citofono era completamente in un altro ambiente come facevo? poi non l'ho detto non l'ho detto ancora ma mentre io ero appunto lì che so vedevo mio padre cioè io so io ho questa scena in mente che c'è mio padre nella nella mia stanzetta che riconoscevo invece poi quando sono ritornata a casa non ricordavo più niente di dove fossero le cose di dove fosse la mia stanza di che quella fosse la mia casa non ero sicura di nulla vedevo mio padre nella mia stanza che apriva che apriva l'armadio si abbracciava ai miei vestiti nell'armadio appunto si buttava nel letto e piangeva come facevo io a vedere tutte queste cose quindi questo mi fa pensare che probabilmente io anche anche io ho avuto un'esperienza extracorporea oltre che ultraterrena rispetto a tutte quelle cose che vi ho già raccontato hai parlato con il tuo amico per la sua esperienza con il figlio sarebbe bello portarlo ah ok sì ho parlato anche con con un mio amico che poi Enrico ti dirò ci sarà sicuramente un'altra testimonianza non di 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 una esperienza di di coma ma di un bimbo piccolo 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 che prima di morire per per una brutta malattia insomma vedeva vedeva padre Pio parlava diceva diceva cose che non avrebbe in nessun modo potuto dire se non veramente che le viveva che vedeva padre Pio quindi insomma spero che presto potranno raccontare anche questa storia Young diceva io non credo so ecco infatti io con lui io e lui abbiamo un'esperienza appunto comune quella dell'esperienza di premorte sì anche io sono sicurissima cioè proprio non credo io sono certa sono certa proprio io non la non la leggo questa cosa ah ok conosci Davide Vaccarin ok ecco proprio Stefania sì allora ho conosciuto Davide Vaccarin appunto in queste mie ricerche in queste mie continue ricerche di cosa è potuto accadere chi è che se ne occupa di questi studi dove posso studiare tutte queste cose e in questo in questo modo ho conosciuto e ho letto il libro allora non aveva ancora scritto il libro quando io appunto l'ho ricercato aveva scritto una tesi di laurea in medicina per cui appunto poi si è avvicinato a queste esperienze e io ho comprato il suo libro che era la sua tesi in che l'ho letta che l'ho letto tutto e praticamente riportava tutte queste tutte queste esperienze e il motivo appunto del suo interesse e ne sono stata molto molto colpita però di fatto non ci avevo mai non ci avevo mai parlato nel senso aveva il suo libro e dicevo sempre Davide Vaccarin però non avrei mai pensato di conoscerlo fatto sta che quest'anno mi hanno invitato al convegno nazionale delle ai confini della della vita delle delle associazioni le radici del del melograno e lì ho incontrato Davide Vaccarin che appunto interveniva anche lui in questo in questo congresso e sono stata felicissima di dire ciao Davide ma lo sai io ti conosco e finalmente ho potuto regalare il mio libro e sono stata felicissima si eh no non non ricordo cioè non so non ricordo che che padre Pio mi abbia detto qualcosa io però quando ero ah ok si 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 ok però sempre in quei dieci giorni che io non mi ricordo dal mio risveglio no forse non erano dieci giorni non lo so qualche qualche settimana mia madre sempre mi ha raccontato cioè mi ha raccontato successivamente che io abbia detto tantissime cose per esempio anche mamma lo sai c'era San Giorgio con le lame sotto i piedi ma io ma chi era questo San Giorgio non lo so non lo conosceva neanche lei io non credo di averne di averne sentito parlare prima o comunque ripeto non ero non ero consapevole quando abbiamo quando poi abbiamo trovato cioè dopo qualche mese ho visto una immaginetta di questo di questo santo San Giorgio ed è veramente ed è veramente con con la lancia con la lancia che schiaccia che uccide il demonio ed è esattamente sotto i piedi io ripeto non me lo ricordo né di aver visto questa cosa né di averla detta però mia madre me l'aveva raccontata quindi io io ci credo inoltre appunto di Padre Pio quando appunto in questi giorni di cui io non ricordo nulla avrei detto a mia mamma mamma lo sai Padre Pio mi vuole bene anzi no mi ama e mia madre e mia madre mi chiese perché Gioia tu l'hai tu l'hai visto e io ho detto avrei detto sì e lo vedo anche ora è seduto accanto a te io non mi ricordo assolutamente questa questa cosa però mia madre ha scritto tutto quello che io dicevo proprio lo scriveva in un'agenda che quando io l'ho ripresa quando io l'ho presa l'ho trovata appunto mentre studiavo tutte queste cose mi informavo di cosa era accaduto e quindi chiedevo a mia madre mamma ma ti ricordi cos'era che avevo detto io in particolare mi diceva sì io le ho scritte dice sì io me lo ricordo però comunque ho scritto tutto in un'agenda e me l'ha data me l'ha data e io ho detto oddio ma ho detto tutte queste cose e appunto per annotare tutto questo e potevo solo fare un libro perché non non basterebbe non basterebbe una giornata per per raccontare tutto anche perché me le dimentico un po' pure io ok cosa ne pensi se è vero che le anime fanno un progetto di vita insieme da sperimentare incarnandosi come crescita spirituale questo non lo so non mi sono non mi sono mai mi sono chiesta anche del non mi sono addentrata moltissimo in queste in queste cose in questi pensieri comunque sì ci ho pensato spesso anche alla alla reincarnazione su quale su quale idea possa possa avere io dopo che ho vissuto questa questa esperienza mi manca mi manca un pezzo però perché io so per certo che quando si muore non si muore realmente ma la coscienza è come se si aprisse come se si liberasse dalle quattro mura in cui è circondata adesso e continuasse a vivere però in che forma se ancora se ancora come come ricordo io appunto dell'aldilà per quanto tempo non lo so o se poi possa ritornare in vita sotto qualche altra forma io non lo so mi manca questo questo passaggio ah e un'altra cosa tutte queste cose che adesso mi mancano non non avevo io questa sensazione appena sveglia tipo il primo mese avevo un senso di di pienezza come se sapevo tutto sapevo tutto come se io avevo saputo tutto però che cosa forse l'ho dimenticato per poter vivere meglio per poter vivere anche soltanto in questa realtà io purtroppo oggi tante cose e tante risposte non so darle a tante vostre domande non so rispondere se non all'unica forse la più importante che secondo me ci interessa e che è quella che appunto io voglio dare voglio far sapere ai ai genitori perché mi focalizzo sui genitori che hanno perso che hanno perso dei ragazzi perché perché penso che sia forse perché l'ho provato un po' indirettamente tramite le tramite i racconti dei miei dei miei genitori però penso che perdere perdere un padre perdere non lo so perdere qualcuno perdere un nonno non è non fa penso che il dolore il dolore è peggiore che una persona umana può provare è quella di perdere della perdita di un figlio credo proprio credo questo anche in anche in seguito al mio lavoro ed è per questo che ho che ho voluto non regalare perché magari qualcuno non lo vuole neanche regalato questo questo mio pensiero però io lo voglio dire lo voglio far sapere a tutti specialmente a loro ai ai genitori di di ragazzi che non che non ci sono più ok ciao sono una delle protagoniste ciao Valeria grazie sei dolcissima grazie grazie Ella e grazie a tutti voi penso che ho detto un po' tutto forse no tutto mai non ho potuto dire tutto però ho detto ho detto molto aspetto tutte le vostre le vostre domande se ne avete ancora anche anche da da fare in un'altra in un'altra intervista adesso forse è passato un po' troppo tempo non lo so non lo so e quindi vi auguro auguro una buona una buona serata a tutti e un bacione ciao 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 Grazie.